Buonasera, un saluto a tutti voi dalla redazione di Telemolise, dall'ultima edizione del nostro telegiornale, sempre la cronaca in copertina con la vicenda dei tre falsi invalidi, in questo caso non vedenti scoperti dai carabinieri nell'Interland della zona di Isernia. Due uomini e una donna sono stati filmati, risultavano appunto non vedenti, ma dai filmati i carabinieri hanno dimostrato che queste persone erano alla guida delle proprie auto quando non andavano addirittura a cercare frutti di bosco. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sergio Di Vincenzo. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Isernia, diretto dal comandante Domenico Signa, sono partite da un semplice controllo stradale. Il nervosismo del conducente di una decappottabile ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. I risultati sono stati sorprendenti. L'uomo sulla carta cieco non solo guidava tranquillamente, ma aveva anche superato l'esame per ottenere la patente in un periodo successivo al riconoscimento della sua presunta invalidità. Di qui la decisione del procuratore capo di Isernia, Paolo Albano, di estendere i controlli anche ad altre persone. I sei mesi di indagine, ha spiegato il comandante provinciale dell'arma, Davide Milano, hanno portato alla denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato di due uomini e una donna, di età compresa tra i 51 e i 76 anni, residenti in tre piccoli paesi tra Isernia e Venafro. Sono due presunti ciechi parziali e uno totale. Sono accusati di aver percepito indebitamente oltre 100.000 euro. In un caso è stato accertato che, oltre a quello dell'Inps, veniva riscosso anche un sussidio regionale. Le indagini sono state complesse, ha detto il comandante della compagnia dei carabinieri di Isernia, Matteo Branchinelli. Alcuni indagati risiedono infatti nelle contrade. Per questo è stato difficile firmarli o fotografarli senza destare sospetti. Una donna, ad esempio, è stata ripresa mentre tornava in tutta tranquillità a casa dopo aver riempito una cesta di frutti di bosco oppure mentre leggeva la posta appena consegnata. Singolare, invece, l'episodio che ha interessato un altro finto cieco. Quando un carabiniere in borghese ha bussato alla sua porta spacciandosi per un promotore di una nota pay tv, lui ne ha approfittato per dire che a casa sua il segnale era pessimo e che spesso, dunque, non riusciva a vedere le partite di calcio della sua squadra del cuore. Non c'è che dire. Ha fatto un clamoroso autogol. Un 32enne di Isernia è stato arrestato per detenzione di droga nella sua abitazione di Rocca Sicura. I carabinieri di Agnone e della stazione di Caroviglia hanno trovato circa due etti di hashish, sequestrato anche un bilancino e altro precisione per confezionare le dosi dello spaccio. Il giovane è stato portato a Ponte San Leonardo a Isernia. Oggi è stato anche il giorno del sì del Senato in prima lettura sulla riforma istituzionale della Camera Alta, appunto. Il senatore Roberto Ruta ha commentato di aver votato un provvedimento che ci consente, ha detto, di riformare il Paese. Abbiamo scelto la strada per garantire la stabilità dei governi e la tempestività della decisione politica per affrontare con efficacia le difficoltà sociali che hanno assunto dimensioni drammatiche. Questi obiettivi ha aggiunto Ruta, li condivido e per questo ho proposto ad inizio legislatura un disegno di legge per abolire il Senato e dimezzare il numero dei parlamentari. Dopo la presentazione in Regione del documento sullo sviluppo e sul riconoscimento dell'area di crisi elaborato dalla Giunta e condiviso dalle forze sociali è polemica sui contenuti. Ce ne parla Giovanni Minicozzi. Pur con tutti i limiti della proposta è apprezzabile lo sforzo fatto dalla Regione e dalle parti sociali di elaborare e sottoscrivere un documento che mette al centro del dibattito il drammatico tema del lavoro e dello sviluppo a partire dalle aree più massacrate del Molise centrale e dell'Alto Molise. È incomiabile anche la dichiarata volontà di rinunciare alle ferie per dare gambe più solide al progetto. Io penso che non bisogna andare in ferie, tant'è vero che in questi giorni è uscito sul Borm un doppio bando della Regione Molise, 3 milioni di euro per l'autoimbiego per i giovani fino a 35 anni che vogliono promuovere iniziative imprenditoriali, 1 milione e 100 il bando per l'internazionalizzazione, per i nostri ragazzi che vogliono fare un'esperienza fuori. Abbiamo fatto un incontro per sbloccare un bando di 800 mila euro per il bonus assunzionale nei confronti di quelle aziende che vogliono assumere giovani ma anche soggetti svantaggiati. Entro questo mese i comuni che vogliono promuovere le sezioni primavera abbiamo messo a bando sul Borm il primo agosto 1 milione e 466 mila euro. Io credo che non ci possiamo permettere di allontanarci nemmeno per un minuto e per quello che è possibile tutte le risorse che sono disponibili vanno attivate attraverso però questo confronto ambio. La crisi è troppo forte per limitarci a tenere ciascuno di noi un atteggiamento per quanto corretto e giusto ma separato da quello che è il contesto complessivo. I sindacati dal canto loro esultano e rivendicano la primogenitura della proposta sostenuta con una grande manifestazione pubblica ed elaborata si dice insieme all'assessore Michele Petraroia con Paolo Frattura, dicono sempre i ben informati, spettatore eccellente dell'operazione. Resta il fatto però che il documento presentato è stato criticato da più parti per l'evanescenza dei contenuti programmatici. Il riconoscimento della vasta area di crisi infatti chiesta al Governo imporrebbe una elaborazione più approfondita del contesto socio-economico, delle infrastrutture esistenti, delle opzioni sui settori produttivi da rilanciare e della disponibilità dei privati ad investire. Niente di tutto questo. Il documento rappresenta solo una dichiarazione di volontà da parte di più soggetti diversamente interessati alla vicenda. Dunque il lavoro fatto fino ad oggi e presentato in pompa magna ai molisani non basta per fronteggiare la drammatica situazione che stanno vivendo migliaia di famiglie ridotte ormai alla canna del gas. Servirebbe ben altro ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Su questo argomento ha preso posizione anche Tecla Boccardo, segretario regionale della Will Funzione Pubblica. È opportuno ricordare, ha detto la Boccardo, che il Molise è al primo posto per la disoccupazione. In percentuale siamo una delle regioni con il maggior numero di precari, ha aggiunto la sindacalista. Bisogna agire concretamente e con decisione. ha concluso Tecla Boccardo guardando con meno avversione alla stabilizzazione dei lavoratori, cominciando a debellare gli sprechi, rivedendo i costi della politica e la spesa pubblica. E sempre a proposito di lavoro, oggi ricorre il 58esimo anniversario di una delle più gravi tragedie sul lavoro mai avvenute nella storia recente. Parliamo del disastro di Marsinel. I 262 lavoratori morti sono stati commemorati nel pozzo davanti ai cancelli della miniera di Bois de Quasier in Belgio. Erano da poco passate le 8 del mattino a Marsinel, quando l'8 agosto di 58 anni fa il sole fu nascosto da una nuvola nera che cominciò ad uscire dai pozzi di Bois de Quasier. Oltre un chilometro più in basso, quasi 300 minatori erano scesi a lavorare come ogni mattina in cunicoli larghi a mala pena per consentire il passaggio di un uomo. Un ascensore partito quando non era ancora il momento provocò la rottura dei tubi dell'aria compressa e dei cavi elettrici, innescando il micidiale incendio sotterraneo che costò la morte a 262 uomini, tra i quali 136 italiani, sette erano molisani. La storia ha raccontato che le vie di fuga erano del tutto inefficienti, i soccorsi arrivarono in ritardo, ci vollero giorni per recuperare le vittime. Come ogni anno, davanti ai cancelli della tragedia, le celebrazioni di rito, i 262 rintocchi della campana e l'appello alfabetico degli scomparsi, la deposizione delle corone davanti ai monumenti dedicati ai minatori, alle vittime del lavoro, al sacrificio dei minatori italiani, il discorso del sottosegretario agli esteri Mario Giro. Il presidente della Repubblica Napolitano ha inviato un messaggio. Il tempo trascorso, ha detto il capo dello Stato, non attenua il ricordo di una tragedia simbolo del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e costituisce tuttora, ha aggiunto il presidente, motivo di riflessione sui pressanti temi dell'integrazione degli immigrati e della sicurezza sul luogo del lavoro. Messaggi anche dalle istituzioni del Molise, dove a distanza di più di mezzo secolo, per trovare lavoro, tanti giovani hanno ricominciato a partire. Primi passi per la nuova legge sull'editoria. Nel corso di un incontro con gli operatori di settore, il presidente Frattura e il direttore della regione di Mirco hanno presentato la bozza destinata a mettere ordine in un settore complesso come quello dell'informazione. Cardine della nuova norma sarà l'occupazione, verranno cioè premiate le aziende che potranno dimostrare regolari assunzioni di giornalisti secondo il contratto nazionale della categoria già fissata alla riunione del prossimo tavolo di confronto che è previsto per il 5 settembre. E adesso andiamo a Tufara, dove alcune realtà si sono unite per creare una cooperativa. L'obiettivo è quello di promuovere l'olio extravergine dell'area del Fortore. Ce ne parla in questo servizio Marcella Tamburello. Da sempre il Molise è un territorio prettamente agricolo che dona prodotti preziosi e di buona qualità come ad esempio il vino e l'olio extravergine di oliva. Attraverso le potenzialità della nostra terra si potrebbero creare sviluppo e lavoro per i tanti giovani disoccupati molisani che spesso sono costretti a scappare via per trovare un'occupazione. Su queste basi alcune realtà del Fortore si sono organizzate per cercare di creare un consorzio per la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva locale e favorire quindi l'occupazione giovanile. L'idea è stata pensata da un imprenditore del Nord Italia da anni residente a Tufara che ha deciso di investire proprio sui prodotti del Molise. Le basi per la creazione di una filiera locale dell'olio da sviluppare nei comuni del Fortore saranno poste durante il convegno che si terrà domani mattina a partire dalle 10 nella sala del comune di Tufara. Tra i relatori ci saranno docenti universitari, agronomi, esperti del settore, i sindaci di Gambatesa, Macchia-Valfortore e Tufara, l'assessore regionale dell'agricoltura a Facciolla, che affronteranno la tematica dell'olio da diversi punti di vista. L'olio quale elemento di nutrizione, la carta d'identità dell'extravergine, i reati penali per la falsificazione del prodotto, fino alla creazione di una cooperativa che possa sviluppare occupazioni giovanile in Molise. Chiuderà i lavori Andrea Olivero, vice ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali. E ora parliamo di turismo e di un tema che ha fatto discutere nella precedente stagione estiva, cioè la tassa di soggiorno introdotta dall'amministrazione comunale. Alcuni albergatori avevano presentato ricorso, il TAR l'ha accolto ed ora è tornato questo argomento di attualità con qualche coda polemica. Ce ne parla in questo servizio Fabrizio Occhionero. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la delibera del Consiglio Comunale di Termoli che nel 2012 ha istituito la tassa di soggiorno per gli ospiti delle strutture ricettive della città. Da 2,50 euro al giorno e a persona per gli alberghi a 4 stelle fino a 1 euro per gli alloggi di categoria inferiore per un massimo di 5 giorni. I giudici hanno accolto il ricorso di alcuni albergatori presentato dagli avvocati Franco e Benedetto Cianci che hanno contestato la delibera rilevando alcune anomalie. In sostanza il TAR ha riconosciuto il mancato inserimento del Comune di Termoli in un elenco regionale dei centri turistici presupposto indispensabile per introdurre la tassa rispetto a una generica indicazione di vocazione turistica della città. Dopo la sentenza del TAR come vi siete comportati? In ottemperanza alla sentenza che è stata emanata la proprietà ha dato disposizione di non procedere più all'incasso della tassa di soggiorno nei confronti dei nostri clienti. Molto soddisfatti. Chiaramente possono impegnare queste risorse diversamente. Noi immediatamente non l'abbiamo più incassata. Semplice. Il nostro direttore ci ha detto di non incassarla più e noi non l'abbiamo più incassata. I clienti come hanno reagito ovviamente? Bene ovviamente. Benissimo anzi perché comunque a noi ci costava 2,50 euro al giorno. Lei immagini una coppia che viene per almeno 5 giorni. Incidere un poco? Sì, moltissimo. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Nicola Di Michele che ha presentato un'interrogazione al sindaco Angelo Sbrocca per capire come la nuova amministrazione intende agire in seguito alla sentenza. Considerato, osservato Di Michele, che in campagna elettorale era chiaramente espressa nel programma della sua coalizione la volontà di abrogare con immediatezza l'imposta in questione. Per ora il sindaco di Termoli non è andato oltre uno stiamo valutando e nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più. Sono aperte a Campobasso le iscrizioni per il nuovo anno scolastico dell'asilo Bianconiglio che rimarrà nella sede di Via Verga in cui è ubicato attualmente. Il team di lavoro è formato da educatrici specializzate. La struttura sarà aperta il 1 settembre e chiuderà il 15 luglio. L'asilo ha disponibilità di 70 posti e i bambini sono divisi in gruppi per fasce d'età. Le iscrizioni si possono effettuare all'ufficio scuola di Via Cavour dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno e 30 e il martedì e il giovedì nel pomeriggio dalle 16 alle 17 e 30. E ora apriamo la pagina delle manifestazioni dell'estate. Cominciamo con la musica e con Lady Lang ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Eleganza, tecnica e coraggio nel lanciarsi in qualche sperimentazione. Nella serata dedicata alle voci ha fatto il pieno di applausi quella di Dean Bowman. Per alcuni è senza dubbio uno dei migliori vocalisti americani di sempre. Madonna è arrivata a dire che la sua è la voce di un dio. I suoi progetti tendono quasi tutti all'innovazione, è vero, ma anche artisti come Miles Davis e Jimi Hendrix per lui sono fonte di ispirazione. Un grande esempio di blues contemporaneo, di blues moderno, molto ispirato sia per quanto riguarda il suo stile chitarristico strettamente legato al blues sia per quanto riguarda il suo stile vocale che mi ispira molto. C'è qualcosa di Eddie Lang che ha ispirato la sua carriera artistica? Probabilmente la gestione delle relazioni umane, il modo in cui interagiva con la gente e faceva gioire della propria musica. Per la serata di Monteroduni, ma non solo, è stato accompagnato da una giovane band napoletana. Avere la fortuna e l'onore di suonare con un gigante della musica contemporanea per noi è stata una cosa molto importante, veramente bella. Tra l'altro il progetto Voodoo Miles Band, che qui è rappresentato anche da Angelo e Giuseppe, oltre che naturalmente da me, è partito proprio circa quattro anni fa dopo l'incontro con Dean, un primissimo incontro con lui, dopodiché è nata proprio l'esigenza da parte mia, poi loro sono subentrati nella cosa, di esplorare i mondi del blues, di Hendrix, di Davis. Apprezzata anche la seconda parte della serata con il Thorsten God's Trio, altro gruppo giovane dal sicuro a venire. Noi siamo conosciuti a Berlino l'anno scorso, abbiamo un sacco di amici in comune, ci siamo trovati insieme a Berlino in questa occasione a suonare, ci siamo trovati molto bene, e poi io sono tornato qua in Italia, ovviamente abbiamo cercato di fare altre cose, altri progetti insieme qua in Italia, ma anche in Germania. Più soft il vocalismo di Thorsten God's, che in ogni caso non fa passare in secondo piano la sua formazione da chitarrista. Non a caso nei suoi studi la figura di Eddie Lenga ha avuto un ruolo di primo ordine. Assolutamente, di sì, era uno dei chitarristi da quel periodo, che era infatti molto influenzato, apprezzo molto la sua musica, anche tanti dischi suoi. La serata si è conclusa in piazza Municipio con l'esibizione dell'Ilaria Bucci Quartet. Parte domani a Frosolone la dodicesima edizione della Festa del Vento, organizzata dall'Associazione I Picchi, con la collaborazione del Comune della Proloco. Due giorni in montagna, nella zona delle centrali eoliche, quindi parapendio e paramotore Aquiloni, saranno i protagonisti per i grandi e per i bambini. E torniamo a parlare di musica, altro genere però, quello del Richa Folk Festival, la rassegna che prosegue fino a domenica. Ce ne parla Giuseppe Carriera. Orage, il rock delle montagne che trascina il pubblico del Richa Folk Festival, nella prima serata della Quattro Giorni che fino a domenica animerà la cittadina, cuore pulsante di un progetto di valorizzazione culturale, musicale e di tradizioni popolari. Il gruppo Valdostano ha contagiato con il suo entusiasmo il furto pubblico di ogni età. Ma questo progetto nasce proprio dal discorso che hai espresso tu, ovvero dalla volontà di unire il mondo del rock e della musica pop con il mondo della musica tradizionale, ma soprattutto con i suoi strumenti, l'organetto diattonico, la ghironda, piuttosto che la corna musa. Coniugandoli non in una maniera filologica, non facendo ricerca sul repertorio del passato, ma impiegandoli sul repertorio scritto ex novo e quindi attuale. Trascinante, ritmato, ma anche elegante e sicuramente originale. Il suono degli orage affianca al classico schema chitarra-basso-batteria strumenti come la ghironda, i flauti, il violino. L'uso degli strumenti tradizionali si rivela essere una chiave molto avanguardistica, visto che la ricerca dei suoni di solito è un po' la missione che tutti i gruppi hanno. Noi abbiamo la facilitazione di compiere questo lavoro attraverso l'utilizzo di certi strumenti che hanno delle sonorità straordinarie. Tu hai citato la ghironda, però altri strumenti nel repertorio dell'orage che portano delle colorazioni alla musica che le altre musiche non hanno e che hanno magari attraverso altri strumenti più consueti. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'evento, che fino a domenica propone un mix di cultura popolare, tradizione e gastronomia, con una selezione di piatti della tradizione riccese legati alla tavola di San Giuseppe, come il baccalà e le polpette di tonno. Abbiamo iniziato proprio col piglio giusto. Li ho voluti, li ho voluti fortemente perché è un gruppo folk rock, combat folk molto molto particolare, un gruppo con testi cantautorali e strumenti tradizionali valdostani. Fantastici, fantastici, veramente molto molto belli. Il Riccia Folk Festival è questo, noi dobbiamo provare anche cose nuove. Loro sono arrivati direttamente dalla Valle d'Aosta, si sono fermati a Gubbio la scorsa sera e sono qui. La cosa che mi fa piacere è che hanno paragonato le nostre montagne a quelle valdostane. È il succo anche questo della nostra attività, cioè quella di condividere con culture di ogni parte del mondo la nostra cultura e le nostre tradizioni e portare qui da noi le culture dei gruppi che ospitiamo. In questi giorni è aperta anche una mostra degli allievi del corso d'arte del maestro Antonio Finelli, nelle opere La sensibilità e la tecnica di decine di allievi raccolte sotto una guida già affermata su scala internazionale. Musica anche a Montorio nei Frentani nella rassegna Noi artisti di questa terra. L'appuntamento è per il 13 agosto alle 21. Il servizio è di Tonino Danese. Un impegno che dura da 18 anni, quello di Antonio Molino, che organizza la manifestazione Noi artisti di questa terra a Montorio nei Frentani. Un impegno sostenuto dal comune, dal parroco e da altri collaboratori per mettere in campo un programma che unisca musica, spettacolo e cultura. Tutto questo nella serata del 13 agosto alle 21. Diversi gli ospiti. Ci saranno l'arcivescovo Bregantini e il vescovo della diocesi di Termoli Larino De Luca, ma non solo perché Montorio nei Frentani possiede un'opera d'arte nella chiesa che è diventata oggetto di interesse extra-regionale. Abbiamo l'ambasciatore italiano in Francia, Gian Domenico Magliano, abbiamo il professor Vittorio Sgarbi che illustrerà la nostra annunciazione che si trova nella chiesa madre. Un famosissimo pittore, Teodoro Del Rico, non entro nel particolare perché è un quadro molto complesso da spiegare. Naturalmente in questi anni ci ha aiutato anche l'architetto Valente a scoprire la grandezza e la bellezza di quest'opera e attendiamo il professor Vittorio Sgarbi, ci dirà qualcosa di più. Si esibirà l'orchestra Magliano di Larino e il coro Maria Libera di Lena, orchestra vincitrice del Festival Mondiale della Musica Scolastica e il trofeo GEF a Sanremo. Un'orchestra giovanile, sono tutti ragazzi delle scuole medie. Siccome noi rileviamo sul territorio queste eccezionalità, premiamo l'orchestra Magliano. Poi abbiamo un trio, premiamo una ragazza che ha origini proprio di Montorio, Paola Petrella. Ci sarà anche la musica del quartetto, locale Cantea, a sud dell'Anima, e l'esibizione di un gruppo hip-hop breakdance, 30 ragazzi di una scuola di Termoli. Tutto questo la sera del 13 agosto Montorio nei Frentani per la diciottesima edizione di Noi Artisti di Questa Terra. Una grande passione per questa manifestazione, una passione per la nostra terra e poi questo legame con gli ospiti che sono stati oltre 2.500 ospiti in questi 18 anni. Prosegue in questi giorni anche Cinema in Cantina, percorso enocinematografico nelle cantine della regione. Le serate propongono film a tema abbinati alla degustazione di vini e prodotti della gastronomia locale. La formula è quella di proiettare sul grande schermo i film nelle aie o nelle cantine delle aziende vitivinicole con naturalmente il vino e il calendario delle iniziative. Tocca numerose cantine fino a fine mese, coordinamento del movimento turistico del vino con la collaborazione del Cinemateatro K e con il patrocinio della regione. Cambiamo completamente argomento, anche se attinente con l'estate, è carente in questo periodo il sangue, allora il consueto appello ai donatori. Fabrizio Occhionero. La cultura della donazione del sangue si costruisce a piccoli passi, creando la consapevolezza necessaria per un gesto che serve a salvare una vita. Da 15 anni la sezione Avis di Santa Croce di Magliano è impegnata lungo questo percorso e sono sempre più numerosi i giovani che decidono di aderire all'associazione intitolata al medico Angelo Tatta. Ho deciso di donare il sangue abbastanza a giovani, a 18 anni, per fare un gesto nell'interesse di altre persone e nello stesso tempo per avere un controllo personale perché non dimentichiamo che il donatore, nell'atto del volontariato, riesce anche a poter essere sempre controllato. Ogni mese l'appuntamento con le donazioni nei locali che si trovano vicino alla sede del 118, un gesto che si rinnova con numerosi volontari che svolgono le varie attività. Mai come in questo periodo la donazione del sangue è sicura. Con gli esami che si fanno si pone tantissima attenzione alla sicurezza del ricevente. Di fatto patologie come l'HCV, l'HBSAG, l'epatite B sono state quasi completamente debellate tra i donatori, quasi non si verificano più. La sezione Avis di Santa Croce conferma così l'impegno sul territorio e alla donazione del sangue, richiesta che spesso cresce e durante l'estate vengono associate attività socioculturali per coinvolgere sempre più volontari e nuovi donatori. L'importante è il proselitismo, fare molte iniziative divulgative. Noi operiamo sul territorio già, come dicevo, da 15 anni con convegni, gite, manifestazioni varie di qualsiasi specie, anche appoggiando i giovani, come dicevo, nelle attività. Ed è tutto anche per l'edizione delle 23 del nostro telegiornale che continuerà in replica per tutta la notte fino al prossimo appuntamento in diretta con la nostra informazione. Per ora è tutto, grazie e buona serata. Grazie.